Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Gaetano Quagliariello, senatore della Repubblica, per parlare con lui della frase che abbiamo sentito dire da Berlusconi sul presidenzialismo e se ci sarà questa riforma l'attuale presidente della Repubblica, Mattarella, dovrà dimettersi. Allora, è una dichiarazione che sta facendo discutere molto. Io mi ero permesso di disturbare il senatore Quagliariello perché, conoscendo molto bene la storia francese, l'unico precedente che mi veniva in mente, che poteva riguardare un caso del genere, era quello del passaggio dalla quarta alla quinta Repubblica francese, quando il diciassettesimo presidente della Repubblica, René Cotì, lasciò il posto a Charles de Gaulle in una nuova architettura costituzionale della Francia. Allora, professor Quagliariello, guardando quel caso, che insegnamenti possiamo trarre oppure si ritiene che sia del tutto estraneo? No, buongiorno innanzitutto. Il caso è del tutto, diciamo, differente. Per quali ragioni? Perché dobbiamo ricordare come avvenne il passaggio dalla quarta alla quinta Repubblica. La quinta Repubblica fu un passaggio cruento. Si trattò fondamentalmente di un passaggio costituzionale che avvenne sotto la minaccia di un vero e proprio Puch militare, che tra le altre cose si era già avviato e che riguardava la posizione, la indipendenza dell'Algeria, cioè riguardava quel processo di decolonizzazione che per quel che riguarda la Francia è stato particolarmente cruento e difficile. Dobbiamo ricordarci che fondamentalmente la Francia è l'unico paese che non ha conosciuto soluzioni di continuità tra la seconda guerra mondiale e, diciamo così, la guerra di decolonizzazione, perché è appena finita la seconda guerra mondiale, nella quale grazie, diciamo, alla preveggenza di De Gaulle riuscì a rientrare dalla parte dei vincitori, perché appunto De Gaulle aveva costituito la France Libre in esilio, iniziò la guerra di Algeria che poi, una volta conclusa, con una cocente sconfitta militare, aprì il capitolo della decolonizzazione per quel che riguarda il Marocco e la Tunisia. L'Algeria era un caso particolare, perché l'Algeria era considerata una sorta di, anzi era considerata a tutti gli effetti, era un dipartimento francese, cioè non era, diciamo, un territorio d'oltremare e, insomma, chi ha conosciuto, ha visitato Algeria, si rende conto anche che dal punto, o ha letto, diciamo, quel famoso, quel fantastico libro di Camus, le dernier Roma, si rende conto che evidentemente c'erano radici molto profonde, c'era un esercito frustrato, proprio per quelli che erano stati gli esiti delle guerre precedenti, che appunto mise in atto un vero e proprio push militare. Di fronte a questo fu proprio il Presidente Cotì che si appellò al più illustre dei francesi, cioè a Charles de Gaulle, perché quella transizione fosse portata a termine in maniera pacifica e il push fosse evitato. De Gaulle dunque era chiamato a mediare tra i militari e lo Stato. E quando nacque la Quinta Repubblica vi fu un profondo cambiamento istituzionale. L'architettura, diciamo, dello Stato cambiò fortemente, cambiò fortemente anche il ruolo del Presidente della Repubblica, che diventò una sorta di monarca repubblicano, quindi una sorta di potere neutro che interviene nei casi di emergenza, tant'è vero che la parte più controversa di quella postituzione fu il cosiddetto articolo 16, quello sui poteri eccezionali che in momenti particolari il Presidente avrebbe potuto ricevere. Ma, ecco, questo è fondamentale ricordarlo, nel 1958 non cambiò la modalità di elezione del Presidente della Repubblica, perché quel cambiamento fu un cambiamento successivo. Il cambiamento avvenne nel 1962, quattro anni dopo, nel momento nel quale, diciamo, la crisi dell'Algeria fu portata a compimento. De Gaulle fece, diciamo, tra virgolette il capolavoro storico di entrare, diciamo, in gioco come mediatore e invece di portare poi a termine il processo di indipendenza dell'Algeria, che era esattamente quello che i suoi più forti sostenitori avrebbero voluto evitare. Quindi, dal punto di vista, diciamo, del passaggio da Cotì a De Gaulle, ci sono due cose da rilevare. Innanzitutto fu Cotì a chiamare De Gaulle, il secondo luogo avvenne in un momento eccezionale. E la terza cosa che molti dimenticano è che la Quinta Repubblica arrivò all'elezione diretta del Presidente solo in un secondo momento, cioè nel 1962 e non nel 1958. È evidente che ci troviamo in una situazione completamente differente da quella che si potrebbe prefigurare nel caso fosse approvata in Italia una riforma in senso semipresidenziale. Cotì che idee politiche aveva? Dunque lui era, diciamo, un repubblicano di sinistra, poi ha avuto una sua evoluzione. Tra l'altro, nella sua carriera politica, lui aveva votato anche per i pieni poteri a Petain nel 1940. Tenga conto che appunto nel 1940 furono assai pochi i parlamentari che non votarono per questa soluzione, che in quel momento sembrava una soluzione quasi obbligata. Tenga conto che De Gaulle che era stato sottosegretario nell'ultimo governo della Terza Repubblica, in quel momento non era una figura politica eminente ed ebbe l'intelligenza direi politica ma soprattutto strategica di comprendere che la guerra non era finita, non era persa, che si trattava di una guerra mondiale e che quella guerra mondiale avrebbe potuto avere ancora delle evoluzioni. Se si legge il messaggio che lui lanciò da Londra dove andò in esilio perché appunto lui fu condannato a morte come disertore in patria, ci sono degli elementi di preveggenza incredibili perché lui comprese che la guerra non sarebbe finita così come era iniziata e questo sia riguardo al ruolo degli americani, che come lei sa entrarono in guerra soltanto in un secondo momento, soltanto dopo l'attacco di Pearl Harbor e per di più una guerra dichiarata al Giappone, sia per quel che riguarda soprattutto la situazione dell'Unione Sovietica perché all'inizio della guerra sostanzialmente l'Unione Sovietica era sostanzialmente alleata di Hitler e della Germania perché erano stati firmati i cosiddetti patti Molotov-Ribbentrop e soprattutto i protocolli segreti che si sono conosciuti soltanto dopo che evidentemente configuravano una sorta di alleanza di fatto e una spartizione del mondo dopo la guerra. De Gaulle capì che tutto questo era provvisorio, che le cose sarebbero cambiate e che quindi anche la sconfitta bruciante della Francia che aveva puntato tutto sulla linea Maginot non comprendendo l'evoluzione della guerra perché non si comprese quale sarebbe stato il ruolo dei tank e dei carri armati in grado evidentemente di oltrepassare la linea Maginot come avvenne che la posizione, che la sconfitta della Francia fosse veressibile. Questo sul suo fronte. Cotì faceva parte invece di quel ventre molle moderato, repubblicano dove c'erano tante sfumature e che in qualche modo insomma non aveva questi guizzi diciamo anche di ardimento. Certo, però dunque una cosa che volevo capire, allora il predecessore di Cotì, Auriol, è rimasto in carica sette anni, quella era la durata della carica, mentre Cotì che l'ha sostituito prima di De Gaulle e della riforma che ha portato effettivamente alla Quinta Repubblica francese è rimasto praticamente cinque anni pieni, fino all'8 gennaio del 1950. Insomma Cotì in qualche modo fu uno che agevolò. Certo, io volevo capire, sì sì certo agevolò, ma come è avvenuto il passaggio di consegne da Cotì a De Gaulle? Cioè lui gli ha detto adesso il Presidente della Repubblica sei tu senza farsi ele... No, 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 ci fu un processo di transizione in cui vennero scritte le nuove norme, quelle della Costituzione, della Costituzione della Quinta Repubblica. A questa cosa parteciparono sia alcuni uomini gollisti di primo rango, forse il maggiore artefice in questo senso si chiamava Michel Debré che poi fu il primo ministro del generale, altri anche come capitani, altri costituzionalisti ebbero un ruolo abbastanza importante. Ma questo processo vide molto presenti anche gli uomini della Quarta Repubblica. Ce ne sono alcuni, in questo si capisce che cosa vuol dire essere patriotti, per esempio Guy Mollet che era il capo dei socialisti francesi, pur sapendo che quel processo avrebbe fortemente ostacolato il ruolo del Partito Socialista e la sua forza, però ritenne fondamentale che si compisse. Tra questi agevolatori della Quinta Repubblica, provenienti dalla Quarta, un altro che era appunto il leader democristiano per i fi, ora non entriamo in questi particolari, ma tra questi agevolatori ci fu anche Coti. Fece di tutto perché si scrivessero le nuove norme. Quando le nuove norme furono scritte, quando tutto, diciamo tra virgolette, si compì, evidentemente ci fu un passaggio che avvenne costituzionalmente perfetto, quindi i grandi elettori si riunirono all'estero, il nuovo Presidente della Repubblica che poi venne confermato a suffragio universale nel 1962. Qui stiamo parlando del cambio di una Costituzione, quindi si stanno cambiando il cambio fondamentale delle regole, non è che cambiò soltanto il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica. Cambiò completamente la Costituzione, ci fu un'inversione addirittura nella importanza dei poteri, il potere esecutivo divenne, diciamo tra virgolette, più rilevante rispetto al potere legislativo, tant'è che nella scrittura della Carta della Quinta Repubblica il capitolo sull'esecutivo viene prima. In questo caso noi parleremo di tutt'altra cosa, noi parleremo di una riforma che riguarda le modalità di elezione del Presidente, che ovviamente implica l'attivazione di una serie di bilanciamenti, una serie di leggi di attuazione, non c'è nessuna emergenza che riguarda la sicurezza della nazione e della sua integrità come in Francia nel 58, quindi nel caso si mettesse in atto una cosa del genere si potrebbe tranquillamente prevedere un processo tranquillo di transizione che avvene alla scadere del settennato, questo credo che sia… Del settennato o della legislatura? Del settennato, quando si esaurisce l'elezione del Presidente, poi tra l'altro c'è anche il fatto che come lei sa la legislatura e il settennato poi finiscono più o meno allo stesso momento, ci sarebbe uno scritto di un anno. Senta, quando ha sentito questa cosa di Berlusconi che ha pensato… No, niente, guardi… No, se non vuole rispondere… No, no, non è che non voglio pensare, non ha pensato niente di particolare, insomma queste cose bisogna un po' conoscerle, ma insomma si tratta di… se uno si dovesse meravigliare per ogni castroneria che viene detta nella vita politica, ogni, diciamo, sgrammatricatura e poi sono convinto, insomma, che poi se il Presidente Berlusconi dovesse approfondire l'argomento, insomma, arriverebbe a delle conclusioni non molto diverse da quelle che ho dato io. Ce lo vede Mattarella fare come Cotì con De Gaulle? No, perché non c'è la necessità di… come posso dire, perché non c'è la necessità, non c'è una necessità esterna, noi non è che stiamo parlando di… non c'è… la Francia era sull'orlo, non si trovava sull'orlo del baratro, dal punto di vista storico, quindi non solo non me lo vedo, ma non me lo voglio manco prefigurare. Ho capito, ho capito. Non pensa che con l'aggravamento della situazione economica, se poi dovessero esserci dei problemi di tipo economico, finanziario, potremmo arrivare a una situazione… adesso non voglio fare il catastrofista, però un po' ci ho pensato io a questa cosa. La situazione nel mondo è una situazione difficile, quindi noi dobbiamo sperare che la situazione nel mondo non peggiori. è evidente che noi siamo in una situazione nella quale crisi nazionali in paesi come il nostro, i nostri vengono suscitati e amplificati da crisi internazionali, è evidente che il momento non è un momento facile, però non si tratterebbe mai di una cosa solamente endogena, nel caso si tratterebbe di qualcosa che proviene dall'esterno. Speriamo di no. Va bene, allora io la ringrazio molto per averci un po' spiegato questa cosa che nasce anche da una mia curiosità su questo tipo di passaggio. Ringrazio il professor Gaetano Quagliariello, senatore col quale abbiamo parlato delle parole di Berlusconi sul presidenzialismo, grazie. Senatore d'Italia al centro. Senatore d'Italia al centro, scusi, è non... Un partito, no, un partito al quale si sarebbe potuto iscrivere, ecco qui. Ah certo, sicuramente, l'area è quella lì, quindi grazie, grazie.